Oggi siamo all'evento EY, il Wealth Management del futuro, nuove strategie nell'era post-Covid, con Stefano Vecchi, Head of Wealth Management e Private Banking di Unicredit Italia. Dottor Vecchi, secondo la ricerca il 92% dei clienti italiani dichiara di essere interessato a perseguire obiettivi di investimento sostenibile. Si tratta di un obiettivo che resta comunque secondario rispetto alla massimizzazione del ritorno economico? Innanzitutto il 92% è un numero che mi sento assolutamente di confermare anche da una serie di analisi di stime interne che abbiamo fatto con i nostri clienti. Non è un obiettivo secondario, è un obiettivo sempre più importante. Nella teoria economica classica si parlava da sempre di rischio e rendimento e molto spesso bisogna rinunciare all'uno per avere un pochettino più dell'altro. Oggi questo sta cambiando, si parla di rischio e rendimento e sostenibilità, per cui la matrice è diventata tra dimensioni e la terza dimensione sta acquisendo valore e acquisisce valore in rapporto anche alle prime due, perché dai primi dati che vediamo sostenibilità vuol dire capacità di abbassare il rischio in certi momenti di volatilità del portafoglio, ma anche di avere più rendimento o protezione dello stesso quando il mercato magari non è particolarmente performante. Inoltre quello che deriva dai cambiamenti della normativa europea di quest'anno sta aprendo un nuovo punto su tutto quello che è sostenibilità e ISG. Faccio riferimento al fatto che sempre di più si sta cercando attivamente il tema della sostenibilità. Che cosa intendo dire? Che una volta nell'analisi di portafoglio la sostenibilità era fatta per differenza, quindi si faceva selezione negativa rispetto a titoli che non avevano certe caratteristiche. Oggi invece c'è ricerca attiva, ricerca attiva di vari tipi di sostenibilità fino ad arrivare ovviamente a parlare anche di impact investing e i clienti sono sempre più attenti a questo elemento e ci danno sempre più direzione nello scegliere investimenti che ovviamente siano sostenibili e siano coerenti al loro profilo. Un'ultima nota, io credo che quello che la normativa europea e la trasparenza che ci sta richiedendo su tutto il tema ISG e sostenibilità ci porterà molto presto ad avere anche un profilo di sostenibilità per il cliente che si andrà a accompagnare e sarà complementare io credo anche al profilo rischio rendimento a cui siamo tutti abituati. Grazie dottor Vecchi. Grazie.